Radio Radicale è un saluto da Giuseppe Di Leo, il tema del futuro della televisione è uno dei temi più dibattuti dal punto di vista culturale, dal punto di vista massimo ideologico, dal punto di vista sociologico, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista economico, dal punto di vista anche culturale. C'è un libro che raduna un po' le varie dimensioni, ambisce radunare le varie dimensioni di questo problema, di questa tematica per meglio dire. Mostro a favore di telecamera e non dico ai ascoltatori di Radio Radicale perché c'è una versione audio video di questa nostra discussione. Un libro pubblicato da Associazione Astrid si intitola La televisione del futuro con sottotitolo Le prospettive del mercato televisivo nella transizione di e per l'ospedale abbiamo i quattro curatori che passo subito a presentare. Fernando, allora, lei si occupa di diritto sociologia ed economia dei media, è stato capo della segretaria tecnica del ministro delle comunicazioni dal 2006 al 2008, componente del consiglio superiore delle comunicazioni 2007-2010, dopo era acquisito e gli ascoltatori di Radio Radicale lo sappiano, e poi consigliere del presidente AGCOM dal 2014 al 2019 attualmente lavora all'ufficio studi della AGCOM. Allora, intanto ci sono i problemi tecnici ma andiamo avanti e lo dico al nostro tecnico, che mi dico anche se non mi si vede l'importante che si veda gli altri ospiti e mi si segna. Il secondo, il secondo, diciamo, che ha curato, curatore, è Vincenzo Lobianco, che saluto. Benvenuto a Radio Radicale, ingegnere delle telecomunicazioni. Vincenzo Lobianco, che svolge attualmente attività di studio e consulenza per amministrazioni e denti di ricerca, insomma, è un esperto di queste tematiche. Il terzo curatore, Antonio Perrucci, professor Antonio Perrucci, docente alla LUSA, e il quarto, Augusto Preta, che è invece un economista. Allora, chiedo a Vincenzo Lobianco di esplicitarci in due minuti, due, le ragioni di questo libro. Come è nato? Grazie. Sì, buonasera, dottor Di Leo, e buonasera a tutti gli ascoltatori. Volevo dire, sì, le ragioni di questo libro nascono da un'interrogazione che ci siamo fatti a noi stessi, un gruppo di lavoro nell'ambito di Asperid, e infatti preferirei che poi passare la parola al dottor Perrucci, che nell'ambito di Asperid si occupa di queste tematiche da tempo, l'idea era di capire quale potesse essere lo sviluppo della televisione nei prossimi anni, partendo da quello che è adesso, il digitale terrestre, e quello che potrà essere nel futuro, ma che è già realtà, cioè lo streaming. E quindi abbiamo un po' analizzato sotto il profilo tecnico la situazione attuale e la situazione futura per capire se quello che c'è in campo adesso permette una transizione della televisione sotto il profilo tecnico dal digitale terrestre, che è il mezzo preferito per ascoltare e vedere la televisione in Italia, a uno strumento diverso, in sostanza a internet, allo streaming, cosa che ben conosciamo tutti o quasi tutti, che ha avuto uno sviluppo enorme a partire dalla crisi pandemica che ha costretto in casa e quindi ha fatto in qualche misura, non dico la fortuna perché le piattaforme erano già nate e già crescevano, ma insomma ha aiutato le piattaforme a distribuirsi anche in Italia e quindi capire un attimo come potrà essere distribuita la televisione agli utenti, alle famiglie, nei prossimi anni. Questo è un po' l'intento sotto il profilo. Allora metto subito in campo Antonio Perucci, come è nato questo libro Antonio Perucci, in collaborazione tra il Mollino e Astrid? Due minuti anche per lei. Sì, arriviamo rapidamente. Intanto la collaborazione è tra noi quattro, i quattro curatori, siamo tutte persone che conoscono abbastanza bene il settore perché tre di noi sono stati o stanno tuttora nell'autorità per comunicazione. Siamo partiti con una domanda, ma quanto durerà il digitale terrestre? E abbiamo capito poi che la domanda più esatta sarà, ma che tipo di televisione ci sarà nei prossimi dieci anni. A quel punto abbiamo messo in campo le diverse competenze, quindi c'è tutta una prima parte interessante, a mio avviso, non per fare propaganda, sullo scenario tecnologico, gli scenari tecnologici. E questo, devo dire, non lo si ritrova da molte altre parti, non è un tema così approfondito. Poi dirà meglio Vincenzo Bianco. Ci siamo poi interrogati su quali erano i mutamenti negli assetti di mercato, e di questo poi parleremo con Augusto Preta, intendendoli fondamentalmente dal lato dell'offerta, ma anche considerando che cambiavano i gusti, le propensioni alla fruizione da parte dei consumatori finali. E da ultimo abbiamo detto, sì, d'accordo, ma qual è allora l'azione, lo spazio che c'è per l'intervento pubblico? Quello previsto, diciamo, dalla Costituzione, quindi la tutela del pluralismo di informazione e la tutela, la par condicio che è supergiunta in un altro momento. Se questo contesto fosse ancora un contesto adeguato alle trasformazioni in atto, che poi tra pochi minuti vedremo più esattamente. Il contesto significa quali sono dei fattori endogeni ed esogeni, come ricorderà Fernando Bruno, che rendono questa transizione un processo più lento o meno accelerato di quanto si stimasse. Questa è la nostra principale conclusione. Siamo nel mezzo di una trasformazione. Avanti, ma non si è conclusa. Siamo sempre nel mezzo di una trasformazione, per la verità, come ci ricorda già Platone nel mito della caverna, ma certamente questa può essere un'epoca peculiare di trasformazione. Intanto l'ho avuto vista anche di epistemologia tecnologica. L'introduzione che si avvale di vari contributi, lo chiedo a Vincenzo Lobianco, l'introduzione si occupa di aspetti abbastanza tecnici, riassetti delle banche, la tv in streaming, la riorganizzazione delle sovrastrutture televisive. So di chiederle uno sforzo titanico, però in pochi minuti, Vincenzo Lobianco, questi primi capitoli introduttivi di questo volume, che cosa vogliono dimostrare? Quale tesi asseverativa o assertiva propone o propongono? E quale è anche la proposta? Lobianco. Sì, grazie. No, ma la tesi assertiva in realtà non ce n'è. Io ero partito personalmente con una tesi, essendo un ingegnere, avendo lavorato sempre sul fronte dell'innovazione tecnologica, pensavo che il digitale terrestre fosse sul punto di cedere il suo spazio a internet e allo streaming. In realtà non è così, ma non è così per vari motivi, non solo tecnici, anche ovviamente economici e sociologici, che verranno approfonditi dopo. Allora, si è partito innanzitutto dalla questione del digitale terrestre. Il digitale terrestre, come sappiamo, opera su delle frequenze, in particolare frequenze in banda, ora dirò una cosa difficile, UHF, che sono le frequenze classiche della televisione, ma sono anche frequenze molto ambite dalle telecomunicazioni, perché hanno una capacità di diffusione, di penetrazione negli edifici e quindi sono molto pregiate sotto il profilo di radioelettio e molto pregiate per offrire anche servizi di comunicazione mobile, ad esempio servizi 5G. E quindi l'idea è che queste frequenze, come già è successo in parte, verranno piano piano fagocitate dalle telecomunicazioni e quindi non ci sarà più spazio in Italia per il digitale terrestre. Cosa succederà? Può tutta la televisione che noi abbiamo sul digitale terrestre, e qua sarebbe da fare un inciso, l'Italia è il paese in Europa dove per la maggior parte la televisione è diffusa sul digitale terrestre, sappiamo tutti l'importanza che ha avuto la televisione nei decenni passati e questa importanza ancora dura sotto il profilo anche economico e per certi versi anche politico, per cui sappiamo bene che smontare il digitale... Ma non è l'unico però, eh? No, è l'unico paese, diciamo i paesi mediterranei, Spagna, Portogallo... Ha perfettamente ragione, però l'importanza che ha in Italia forse non la una negli altri paesi, visto anche che uno dei maggiori attori di questa filiera è stato anche uno dei politici più importanti d'Italia negli ultimi vent'anni, quindi sappiamo che la sua importanza è stata, è stata, diciamo, notevole, più che in altri paesi. Comunque ha perfettamente ragione, il digitale terrestre è diffuso soprattutto nel Mediterraneo. E quindi abbiamo cercato di capire quanto porrà durare il digitale terrestre, e in effetti una prima buona notizia per chi vuole, per chi ama il digitale terrestre, è arrivata dalla Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni, che noi lo prevediamo nel libro, facciamo anche un'ipotesi, ha previsto che queste frequenze vorranno essere mantenute dalla televisione per almeno per altri otto anni, fino al 2031, quando si ridiscuterà della possibilità di cedere tutta o parte di queste frequenze alle telecomunicazioni. Quindi per il momento c'è una situazione in cui il digitale terrestre ha un orizzonte temporale di almeno otto anni di sopravvivenza, diciamo, sotto il profilo dell'uso delle frequenze televisive. Ma se non ci sono le frequenze, la rete è pronta per distribuire la televisione a tutte le famiglie italiane? Ecco qua è stata una, diciamo, come dire, una scoperta interessante. Cioè la rete è in parte pronta, perché una cosa è distribuire film in streaming, in piattaforma, in visione differita, e quindi la rete riesce a sopportare, come abbiamo visto durante la pandemia, stavamo tutti a casa a vedere i film sulle piattaforme, e tutto sommato la rete, lo dimostrano anche i dati dell'Agicom, la rete ha retto la sfida e il carico di lavoro che le è stato richiesto durante la pandemia. Un'altra cosa è trasmettere la televisione in tempo reale, in real time, in una televisione in lineare, per cui ad esempio il momento in cui c'è un evento di portata nazionale, quello che abbiamo appena visto, il Festival di Sanremo, o quello futuro, gli europei di calcio, in cui magari 20 milioni di famiglie vogliono vedere in tempo reale la partita, la rete non si sa se è in grado di sostenere il carico, perché la trasmissione del segnale televisivo sulla rete internet è un carico abbastanza importante, che sia insomma a tutto il carico di lavoro che la rete già svolge, accesso ai siti web, YouTube, cioè il video per i social, e anche per le piattaforme televisive standard, quelle dello streaming on demand, che poi si declina in varie categorie, come ci ha spiegato molto bene Augusto Preda nella sua parte. Quindi abbiamo cercato di capire quali sono le prospettive della tv su internet e abbiamo anche cercato di elaborare delle proposte, se vogliamo fare in modo che internet sia in grado di sostenere una tv in tempo leale per tutte le famiglie italiane. E le proposte sono sostanzialmente quelle di fare in modo di introdurre degli artifici tecnologici all'interno della rete che possano favorire la distribuzione del segnale televisivo. Ad esempio le famose reti CDN, content delivery network, cioè le reti di distribuzione dei contenuti, che giocano un ruolo importantissimo nel distribuire il segnale a tutti gli utenti televisivi. La mancanza di queste CDN o comunque la loro sottodimensionamento i nostri ascoltatori, io penso che i vostri ascoltatori l'abbiano percepita quando è nata Dazon che ha distribuito il calcio su internet e vi ricordate tutti che due o tre anni fa quando segnava il Napoli o la Juventus praticamente appariva la rotellina e il video si congelava. Perché? Perché evidentemente la rete di distribuzione non era adeguata. Adesso le cose sono migliorate grazie anche a un intervento, e questo è spiegato nel libro, un intervento dell'autorità dell'Agicom per richiedere a Dazon di migliorare il proprio sistema di distribuzione. E anche grazie alle minacce di trascimento degli utenti. Ah certo, certo, è evidente. Sì, però non è normale in uno stato di diritto costituzionale dove prima di offrire un servizio ci devono essere anche delle strutture o sovrastrutture adeguate per tutelare chi di quel servizio si segue o di chi a quel servizio si avvona anche con oneri, non proprio irrisori. Le pare, ingegnere? No, questo ha perfettamente ragione. Bisogna dire alcune cose. Intanto è stata segnata, cioè bisogna intanto vedere qual è stato il comportamento di chi ha voluto il calcio su internet e che si è fidato di determinate rassicurazioni che avrebbe funzionato tutto e evidentemente queste rassicurazioni non erano proprio fondate. E poi c'è stato un discreto successo e poi è una materia nuova per cui c'è anche un, come si dice in gergo, un learn by doing. Si impara, certo i poveri utenti ci vanno di mezzo perché pagano per il servizio e poi non hanno una buona qualità di servizio. Però devo dire che le cose sono migliorate. Quindi noi proponiamo... Sono migliorate, non sono ancora perfette, ma insomma diciamo che in questo momento in Italia già le cose migliorano e già un passo in avanti. Dopo l'aspetto, diciamo così, strutturale, organizzativo, naturalmente aspetto economico e quindi lo scenario competitivo è conseguenziale. E lo chiedo all'economista Augusto Preta, c'è la parte seconda praticamente con il capitolo e il settimo sulle prospettive del mercato televisivo nella transizione digitale firmato fra gli altri da Antonio Butta, Maria Cristina, Giorgini, Antonio Perrucci appunto da Augusto Preta. Chiedo a Augusto Preta e poi a Antonio Perrucci di integrare quanto detto innanzitutto dall'economista. Prego, Preta. Sì, ecco io mi collego a quanto Vincenzo Lobianco ha detto partendo da un aspetto tecnologico che non mi compete per arrivare diciamo alla dimensione economica del fenomeno. Nella situazione italiana noi dobbiamo considerare anche il fatto che rispetto agli altri paesi non si è mai sviluppato il cavo, quindi questo è stato un elemento che ha determinato una profonda legacy come si dice nel senso che il sistema è stato costretto a muoversi su un'unica fondamentalmente rete di distribuzione poi avvicinata dopo qualche tempo dal satellite che però ovviamente per ovvie ragioni non può raggiungere una dimensione molto più elevata o comunque non di massa. Detto questo, quindi evidentemente l'impatto di internet in termini di processi globali prima di arrivare diciamo alla situazione nazionale ha determinato proprio la possibilità di poter trovare una rete alternativa e nuova alla diffusione diciamo del segnale televisivo e questo l'ha fatto nelle modalità distruttive che conosciamo cioè nel senso che ha fatto in modo che quel processo di convergenza che da molto tempo veniva reclamato e di cui si parla da oltre 30 anni poi diventi effettivamente realtà cioè alla fine diciamo di questo processo capire da dove si vede un programma da quando si vede e su quale device si vede diventa diciamo un elemento che come dire tende a sovrapporsi sempre più e ora su questo processo diciamo di profonda trasformazione dobbiamo considerare uno scenario che non è uno scenario fermo cioè uno scenario in continua evoluzione, in continua trasformazione uno scenario come ho detto in parte veramente distruttivo e che ha portato diciamo all'evoluzione anche dei consumi da un punto di vista mediale questo è dovuto principalmente come si ricordava all'ingresso diciamo delle piattaforme di video streaming in particolare nel libro viene analizzata tutto quello che era diciamo l'evoluzione che è l'evoluzione di Netflix perché effettivamente è da Netflix in poi che si comincia a parlare diciamo di video streaming e di evoluzione del mercato televisivo quindi diciamo come se la televisione avesse un pre-Netflix e un post-Netflix e rispetto a questo è evidente che questo fenomeno ha determinato una maggiore attenzione al consumatore questa maggiore attenzione al consumatore e poi Fernando Bruno penso ne parlerà in maniera diciamo molto più ampia e complessa di quanto non posso fare io che sono un povero economista e diciamo fondamentalmente determina non si butti giù che gli ultimi anni gli economisti sono attendati i presidenti della Repubblica anche all'inizio per la vita i presidenti del Consiglio diciamo allora un analista di mercato e allora detto questo diciamo tutto quello che questo processo determina è da un lato diciamo un livello di competizione di concorrenza molto più ampio di quello che abbiamo conosciuto in passato cioè la televisione come tutte come dire nessuno di noi è della generazione Z diciamo ricorda sicuramente diciamo il duopolio e tutti i processi che questo ha determinato nello sviluppo del settore alcuni positivi pochi direi molti negativi nel senso che ha bloccato fondamentalmente il sistema per decenni questo processo diciamo ha fatto sì che invece negli ultimi anni con offerte molto più economicamente convenienti e con un'offerta sempre più ampia si sia determinata la possibilità per tutti gli utenti di avere accesso a dei servizi diciamo più ampi e in molti casi migliori nel senso che anche lo sviluppo diciamo di quello che è le offerte locali hanno avuto la possibilità cioè il prodotto nazionale oggi può essere visto anche a livello globale internazionale grazie a questi operatori al contempo però tutto questo diciamo pone anche dei problemi i problemi sono collegati al fatto che diciamo il rischio è che questo processo di continua evoluzione di continua trasformazione alla fine come è avvenuto per tanti altri processi porti a un consolidamento e a una come dire forte scarsa rappresentatività di quelle che sono diciamo le realtà nazionali e le realtà locali e quindi da questo punto di vista una tendenza alla globalizzazione che sicuramente non favorisce attori che in questo momento sono meno dotati di risorse economiche in grado di poter competere con questi a proposito di globalizzazione grazie Preta a proposito di globalizzazione credo che Perrucci Antonio Perrucci abbia da aggiungere qualche postilla sull'argomento sì non solo sulla globalizzazione o l'internazionalizzazione della produzione che è quanto dal lato dell'offerta si contrappone alla globalizzazione dei mercati che è un fenomeno prevalentemente di domande cioè noi vediamo queste due grandi spinte che è stato molto bene lei ricordarla dottor Di Leo una è la globalizzazione l'altra è l'innovazione tecnologica digitale ma non solo qui ci occupiamo di quella digitale e qui torno a dire spero maggiore chiarezza a quello che avevo anticipato prima c'è sempre una visione tra gli economisti ma non solo anche tra loro tra i giuristi e i tecnologi di un processo che parte dall'innovazione tecnologica che produce effetti sui mercati ne modifica gli assetti e quindi pone all'intervento pubblico nelle sue diverse articolazioni politica industriale regolazione tutela antitrust il l'interrogativo cosa possiamo fare per consentire che lo sviluppo dei mercati sia sì promuova l'innovazione promuova nuovi servizi ma lo faccia tutelando diritti costituzionalmente rilevanti e qui c'è da dire che parliamo un attimo dell'Italia e poi un attimo dell'Europa allora quello che è successo che è scontato per gli ascoltatori di radio radicali sicuramente ma forse per gran parte della popolazione per lungo tempo ne abbiamo avuto un problema che era un duopolio un duopolio Rai Mediaset dopodiché c'è stata una forma di duopolio allargato lo si vede nelle varie relazioni annuali dell'Agicom prefisco chiamarlo duopolio allargato anziché triopolio esiste pure come espressione ma non non mi aggrada particolarmente con Sky che diventa il terzo soggetto nel frattempo piccole antenne crescono alcuni tentativi di terzo polo che non ottengono risultati poi improvvisamente passiamo a un quadro in cui la convergenza tecnologica si fa convergenza di mercato anche in questo settore nel settore dei media e c'è la proliferazione di quelle che sono le piattaforme digitali gli streamers chiamiamoli così qui sembrerebbe prodursi una grande eh competizione in realtà su questo sarei molto cauto perché stiamo parlando di soggetti che vanno analizzati su scala sovranazionale e non nazionale cioè sostanzialmente questi grandi soggetti che hanno nome e cognomi Amazon eh Prime Amazon eh Apple TV eh Netflix prima da tutte sono soggetti che hanno una grande eh capacità eh di produrre contenuti come Augusto Preta eh in più occasioni ci ha eh ricordato attraverso i suoi studi questi sono soggetti che investono in prodotti che sono serie e film eh ciascuno di loro più di quanto è l'intero mercato del dei media in Italia cioè gli investimenti dodici tredici quindici venti miliardi dollari il mercato italiano staziona da anni intorno a otto nove miliardi si vede nelle relazioni cosa colpisce quando si passa alla alla che cosa fanno le politiche intendendo sempre che le politiche devono tener conto di quello che accade sul mercato e a loro volta di quello che accade nel proprio tecnologico ma anche quello che accade nel mercato deve tener conto delle politiche quindi un processo di circolarità non di unidirezionalità e qui devo dire c'è una globalizzazione anche delle norme l'Europa si è riservata a un dato importante un mestiere importante prima c'era una disciplina e c'è tuttora a silos c'era la regolamentazione del TLC e c'è tuttora c'è la regolamentazione dei media la direttiva TV senza frontiere di fine anni ottanta adesso negli ultimi anni questo processo di convergenza ha portato a quello che il primo presidente dell'autorità il presidente Enzo Kelly ci diceva signori bisognerà arrivare un momento di convergenza anche delle norme e questo dottor Di Leo penso che per lei sia molto importante e sta succedendo accanto a una regolazione di tipo verticale i media le telecomunicazioni le poste e quant'altro c'è una regolamentazione orizzontale e qui servirebbe un'altra trasmissione ma servirebbe anche un altro libro che noi non abbiamo prodotto ma qualcun altro sì in poco tempo sono entrato prego le richiamo brevemente sul mercato sul tema dell'accesso ai dati questa grande risorsa che molti chiamano nuovo petrolio ma lasciamo perdere questa immagine abbiamo due act cioè due regolamenti il data governance act è entrato in vigore da qualche tempo e il data act che è entrato in vigore da poco ma soprattutto le due grandi direttive è entrata in vigore da poco la digital market act il set di questo mese e il digital service act e degli ure condendo aspettiamo che ad aprile ci sia il quinto grande e non è l'ultimo ma il quinto grande pilastro che è l'artificial intelligence act quindi sostanzialmente la globalizzazione anche da questo punto di vista dottor Di Cleo è molto l'Europa che dimostra una capacità di disciplinare il cosiddetto Brussels effect c'è l'altro cotetti e vabbè ma dal punto di vista del mercato cosa fa l'Europa qualcuno prima di me ha accennato ai processi a gusto ha accennato ai processi di consolidamento ma questo è un settore molto particolare come ci ricorderà Fernando Bruno per noi amici Nando che non è solo un settore interessante dal punto di vista industriale è un settore che produce valori per la democrazia per la tutela del pluralismo per la tutela delle minacce quindi è un insieme di valori che sono extraeconomici e quindi da questo punto di vista c'è una specialità del settore televisivo che viene riconosciuto dalla stessa commissione europea siamo nel mezzo come ci ricordava lei Platone e la caverna siamo nel mezzo di una transizione le norme vengono messe a punto bisognerà capire in che modo queste norme orizzontali si interagiscono con i silos con le norme verticali bel tema lo lasciamo tutto ai giuristi o meglio lasciamo che i giuristi ci si applicano ci ragioneremo su anche noi è fondamentale però che e questa trasmissione è utilissima e noi la ringraziamo al di là del fatto della presentazione del libro che ci sia consapevolezza nei cittadini di cosa comporta questo processo che non è soltanto una transizione tecnologica un mutamento negli assetti di mercato come ha accennato io prima di me molto bene Augusto Preta dei modelli business è qualcosa che impatta sulla nostra quotidianità nelle varie funzioni che noi abbiamo come cittadino elettore diritto all'informazione e qua mi fermo beh sì lei ha lanciato un po' la palla in maniera molto opportuna poi a Fernando Bruno a cui prima di cedere la parola voglio dire che i giuristi hanno avuto un ruolo nell'Italia repubblicana in particolare i giusti i giusti pubblicisti hanno avuto e i costituzionalisti ancora di più Paolo Barile chi non ha studiato sul Barile il tema soprattutto nell'articolo 21 della Costituzione ma anche Enzo Cheli che è un costituzionalista sensibilissimo sulle dinamiche lui che ha una formazione io ho un pregio di conoscerlo insomma soprattutto appunto in vista della produzione scientifica ha una formazione diciamo classica del diritto e per osa confrontarsi anche con le dinamiche extra giuridiche tecnologiche sociologiche culturali come proprio dei grandi giuristi ma appunto arriviamo alla parte terza perché Antonio Perucci parlava di Europa che vuole mai avere consapevolezza di essere europei del ruolo dell'Europa vale anche per l'Italia e io credo che la sfida oggi forse la stiamo perdendo ma non voglio condizionare l'intervento di Fernando Bruno che si inserisce per la parte persa che è la più problematica profili di criticità del processo di transizione tecnologica in cui c'è un suo contributo il primo suo contributo su un scenario complesso macro fenomeni e tendenze poi Clelia Pallotta e Francesco Siliato su resilienza dell'audience nuove modalità di offerta e consumo questo termine di resilienza ormai sta come il cacio sul macchiero poi Fernando Bruno criticità e fattori inerziali e la parte quarta i profili di policy con insomma una sfida soprattutto su perché si affirma sempre di Fernando Bruno ha ancora senso parlare di servizio pubblico radio televisivo e allora partirei proprio da questa domanda lei sostiene che diciamo ingenuo scardinare il sistema di servizio pubblico radio televisivo partiamo da questo assunto e poi sintetizzi la parte terza e la parte quarta in 5 minuti 5 sono io stesso quando assumo nel contesto che è esattamente quello grazie direttore esattamente quello che lei riferiva e cioè una cornice europea in cui di chiaroscuri in cui gli scuri sembrano prevalere sui chiari in questo momento c'è nelle parti che io ho curato un'evidente vena pessimistica su dove stiamo andando e l'idea è che ci sia un ruolo dei servizi pubblici radio televisivi al plurale in Europa un ruolo da giocare inevitabilmente ed ineluttabilmente anche al netto delle deficienze e dei limiti su cui ne io nei miei colleghi di scrittura facciamo sconti come lei avrà avuto occasione di constatare ma c'è un ruolo ineludibile che ha a che fare con come dire con il governo delle opinioni pubbliche con la formazione delle opinioni pubbliche con la costruzione di un immaginario collettivo e di quel tanto di coesione sociale che serve a tenere come dire il tessuto civile di un paese lontano dai rischi di disgregazione perché l'altro corno del problema che noi affrontiamo è quali sono le conseguenze di uno scenario ben raccontato nelle prime parti del volume sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista degli scenari di mercato quali sono le conseguenze del trionfo delle grandi piattaforme digitali sotto il profilo dell'offerta dei contenuti e in particolare dell'offerta di informazione quindi il ruolo dei servizi pubblici al netto di tutte le criticità che pure chiamiamo per nome è sicuramente importante ma perché perché e mi ricollega la seconda parte della sua domanda per stare nei cinque minuti perché nel complesso di parte terza e parte quarta del volume in qualche modo è andato maturando una sorta di controcanto questo libro nasce su un impulso uno stimolo mi ricordo bene di Antonio Perrucci da vecchi amici spesso attorno a un tavolo ma nasce nel 2020 lascio solo per ricordare siamo nei primi mesi di quella devastante esperienza del covid che tanto ha cambiato anche dal punto di vista dell'offerta dei contenuti dell'evoluzione nell'offerta dei contenuti e ci interroghiamo su una domanda ma che fine fa il digitale terrestre? lo streaming ha già vinto bene io che diciamo già allora mi ero ritagliato ce ne traccia anche in pubblicazioni imperinali diciamo così maturate in ambito Astrid mi ero ritagliato una sorta di ruolo di controcanto perché mi piaceva dire sì però attenzione perché questo processo tecnologico ha un sacco di varianti un sacco di fattori iniziali un sacco di controspinte di cui bisogna tenere conto sul piano economico culturale sociale a un certo punto mi sono reso conto e qui a fondo su terza e quarta parte del volume che la domanda di fondo non era più quella da cui eravamo partiti perché questo è il bello di un lavoro collegiale fatto tra quattro vecchi amici la domanda di fondo non era più che fine fa il digitale terrestre ma la domanda di fondo era che fine fanno le nostre democrazie e ho cominciato a ragionare sul fatto che parlare del futuro della tv è sicuramente l'occasione per parlare della qualità e del futuro delle nostre democrazie perché? perché come lei ci ricordava mai come in questi anni l'Europa ha fondato l'argomento con tutto un profluvio di di come dire di provvedimenti che non abbiamo minimamente il tempo di richiamare sul tema del futuro della democrazia europea perché? sull'onda di una serie di macrofenomeni che cito solo per intendere di cosa stiamo parlando la disinformazione l'eterodirezione delle opinioni pubbliche tramite social la pluralizzazione i linguaggi d'odio il fenomeno dell'eco chamber che in qualche modo annichilisce il confronto dialettico e annulla il senso critico e da ultimo gli effetti dell'adozione dell'intelligenza artificiale generativa nei processi di costruzione delle notizie e di offerta dei contenuti ecco perché parlare del futuro della televisione significa parlare della qualità e del futuro della nostra democrazia e l'obiettivo in qualche modo delle parti di volume che ho curato insieme ai colleghi che lei ha opportunamente citato era come dire cogliere la relazione tra il futuro dell'offerta televisiva e quindi le nuove tecnologie trasmissive il video streaming i nuovi soggetti sul mercato le nuove modalità di offerta e di consumo la creazione del nuovo parincesto dei consumatori e alcune specifiche dinamiche di contesto che impattano questo processo di novità e ne cambiano traiettorie e tempi e quali sono questi processi? quelli che vengono diffusamente descritti nella parte terza del volume li cito così sono la resistenza delle audience del digitale terrestre i trend demografici e di invecchiamento della popolazione che rendono sempre più complessa una porzione di popolazione l'impossessamento degli strumenti necessari avere una vera e propria cittadinanza digitale gli indici di povertà con una crescente con una crescente come dire allargamento delle diseguaglianze economiche che rende difficile e ostica anche la possibilità di accesso all'offerta televisiva infatti gli economisti ci ricordano come stia cambiando anche sotto il profilo dell'offerta economica l'offerta televisiva e infine il deficit di cultura digitale che è una vera e propria palla a piede poi chiudo c'è un dato il DESI che è l'indicatore coniato dalla commissione europea per fotografare il progredire dei processi di digitalizzazione nei 27 paesi dell'unione che non rende pienamente giustizia della difficoltà che come paese riscontriamo dal punto di vista dell'affabilizzazione digitale perché noi se si prende il DESI nella sua globalità ma il DESI fotografa la situazione sull'e-commerce la situazione sulla connessione a banda larga se lo si prende soltanto con riferimento alla capacità del cittadino italiano medio di essere cittadino della polis attraverso l'uso degli strumenti digitali noi siamo la pecora nera dell'Unione Europea noi siamo ancora maglia nera dell'Unione Europea abbiamo diciamo una posizione di retroguardia e questo è un problema gigantesco gigantesco anche sotto il profilo diciamo dell'innovazione dell'offerta di contenuti e pubblici ecco quindi per dirla tutta ci sono tutta una serie di chiaroscuri e di come dire di difficoltà che vedono i processi di innovazione tecnologica che necessariamente impattano anche sull'offerta televisiva e sul futuro della TV ovviamente cinque minuti esatti allora allora questo non perché volessi volessi censurare preventivamente Fernando Bruno la censura sul radio radicale è semanticamente e assiologicamente esclusa altrimenti non va avrebbero chiuso 30-40 anni fa quando faceste quel magnifico esperimento appunto però adesso vi chiamo in causa perché tre quarti della trasmissione ho dato sacrosantemente diritto alla vostra alla vostra illustrazione di un libro che resta importante è però per me in questa parte anche deludente perché voi non è un pluralis maestratis e vi chiamo alla fine proprio ciascuno di voi secondo le vostre sensibilità anche capacità cognitive e professionale a rispondere toccate il tema del servizio pubblico secondo me a livello epidermico cerchiamo di andare un po' in atta perché nasce il servizio pubblico nasce il servizio pubblico perché c'è bisogno di formare un'unità nazionale dal punto di vista linguistico oggi c'è un depauperamento un sfibrillamento anche dell'uso della lingua italiana che causa nello stesso tempo effetto della parcializzazione dell'essentirsi comunità le lezioni del maestro famoso agli anni 50 che faceva lezioni di lingua italiana anche se limitata la grammatica hanno aiutato questo paese a riconoscersi nazioni ancora Arturo Carlo Ievolo quando gli si chiedeva che cos'è un servizio pubblico era allora presidente dell'EA rispose dare egualmente risposte facoltà di parola alla maggioranza e all'opposizione a chi sta al governo a chi sta all'opposizione in uno scenario politico in cui i partiti politici avevano un ruolo preciso di indirizzo politico e Enzo Cheli ha pubblicato un libro che è ancora fondamentale a distanza di 60 anni sull'indirizzo politico e partiti popolari oggi la politica non raccoglie i partiti politici non raccolgono il consenso popolare basta vedere le elezioni regionali sia quelle in Sardegna sia quelle in Abruzzo ma anche quelle in Basilicata ci danno come dato il partito più forte nettamente più forte non è centro-destra né centro-sinistra ma il partito degli astensionisti e allora in questo mutamento di scenario geopolitico qual è la funzione oggi del servizio pubblico radio-televisivo terzo terzo punto bruno insiste sul fatto che il servizio pubblico televisivo va considerato un servizio essenziale lei ha scritto questo saggio un anno fa immagino almeno se non prima e lo ha pensato anche ancora prima ma oggi la crisi dell'idea di stato tocca attraverso la riforma dell'autonomia differenziata per esempio due settori fondamentali che hanno costruito la nazione la sanità e la scuola e beh su tutto questo bisogna confrontarsi su questo punto perché altrimenti finiamo per costruire tentativo di costruire un servizio pubblico radio televisivo nazionale e non ci riusciamo perché perdiamo i due settori fondamentali della sanità e della scuola e poi aggiungo è vero Bruno che noi non sappiamo gli anziani non sanno diciamo così gli ultra 65 a non usano non sanno usare il computer però sanno leggere un libro e sanno fare un riassunto i ragazzi giovani quarantenni anche i cinquantenni sanno usare un computer ma non leggono più libri complessi non sono in grado di analizzarli e di farti un riassunto allora questa questo ripensamento e naturalmente il discorso lo potrei portare anche a livello europeo di consapevolezza di essere un popolo europeo consapevolezza dei partiti politici di costruire una cultura politica europea che superi le vecchie famiglie novecentesche socialiste democristiane liberali eccetera che sappiano rispondere alle sfide del ventunesimo ventunesimo secolo io questo non l'ho trovato Bruno in queste considerazioni pur provocatorie da parte da parte sua e vorrei sollecitarvi sollecitarvi provocarvi a una risposta con un giro di tutti e quattro direi di cominciare direi di cominciare da Antonio Perrucci poi Vincenzo Lobianco poi Augusto preta e dolci sin fundo ovviamente Fernando Bruno tre minuti per ciascuno grazie allora grazie starò nei tre minuti intanto è una delusione che mi piace nel senso che rimanda a un nostro progetto che è quello di proseguire con un osservatorio sui i media tenendo conto anche delle indicazioni che nelle note conclusive vengono da Enzo Kelly che vanno in parte significativamente nella direzione di lei indicata una ridefinizione del servizio pubblico assolutamente una tener conto del fatto che siamo cittadini europei e non solo perché ci sono regolamenti che entrano direttamente nel nostro ordinamento giuridico legislativo ma anche perché ci aspettiamo insomma che l'Europa sia un fattore che di collante di comunità per quanto riguarda poi un tema due temi specifici devo chiedere il soccorso all'altro mio mestiere quello direttore nella fondazione Astrid del laboratorio sull'ecosistema digitale abbiamo prodotto un volume su costituzione e quali riforma che è questo qui e io lo rifavoro avere io non c'entro nulla perché qui sono tutti grandi costituzionalisti Ramato Bassanini Kelly e quant'altro e questo discute sul premier grande glielo farò avere l'altra invece è partendo dal tema dell'autonomia differenziata stiamo proprio facendo due approfondimenti sulla sanità e in questo sono personalmente coinvolto e l'altro è sull'istruzione ha ragione questi sono due pilastri fondamentali sulla sanità si giocano anche le sorti politiche a livello locale ma soprattutto c'è una trasformazione c'è stata una trasformazione significativa al di là del noto divario nord sud quindi ancora tornando a quello che diceva Nando Bruno prima sicuramente c'è uno spazio per il servizio pubblico il maestro Manzi a cui gli faceva riferimento peraltro il libro l'abbiamo presentato a Bologna proprio presso la sede dei core nella sala dedicata a Manzi bene un compito tra i tanti perché non per ragioni di tempo ma anche per ragioni mie di specifica competenza è avvicinare la famosa alfabetizzazione digitale questo non sta avvenendo non sta avvenendo anche a cui riguardo faccio una digressione rapidissima c'è un passaggio dal mercato tutelato al mercato libero nel gas nel settore energia elettrica non se ne sa nulla non se ne sa nulla i pochi che fanno comunicazione comunicazione sociale sono le aziende che sono interessate a promuovere le loro offerte però sulla digitalizzazione su che cosa sono queste nuove tecnologie quindi non il fatto di diventiamo tutti programmatori facciamo i corsi di coding o di cyber security ma come questi strumenti possono essere usati beh io ho notato insieme anche all'amico Vincenzo che magari sono delle fondazioni o delle associazioni che danno un contributo a come difendersi nel contesto nel contesto di genere la televisione ha un grande spazio sicuramente il servizio pubblico televisiva ha un grande spazio laddove questa è un'opinione non sono certamente l'unica a sostenerla sono in ottima compagnia e non dovrebbe essere limitata soltanto all'operatore pubblico quindi al concessionario pubblico c'è secondo me una potenzialità enorme che ha il sistema televisivo perché lei ha ragione i giovani non leggono e i giovani sono abituati a quella cultura ma anche i meno giovani guardi sono abituati alla cultura dello spot per cui la prima domanda è sì questo libro è interessante quante pagine di quante pagine è e un cenno ecco secondo me un'emergenza sto esagerando fino a un certo punto è l'educazione all'intelligenza artificiale generativa su cui parecchio stiamo investendo presso Astrid faremo un seminario il 17 aprile cominciano ad esserci anche delle aziende italiane che producono questi large language models cioè questi sistemi di intelligenza artificiale generativa ma come cittadini come lettori come elettori non siamo non dico sufficientemente informati minimamente informati anche se come la parola resilienza il tema resilienza è diventato un un must bisogna assolutamente menzionarlo altrettanto vale per l'intelligenza artificiale ora se in un discorso io l'ho fatto in questa occasione non si parla l'intelligenza artificiale ma anche da parte dei media non si è alla pace ecco forse qui c'è uno spazio enorme per aiutare il processo di adozione di queste tecnologie perché non siano un modo per coartare le nostre libertà fondamentali Vincenzo Lobianco tre minuti di orologio anche per lei sì grazie sì io parto da alcune parole che ha detto molto opportunamente Antonio Perrucci io come ha detto all'inizio sono ingegnere e quindi non vorrei mettermi sullo stesso terreno dei colleghi giuristi o sociologi che hanno parlato molto meglio di me hanno approfondito meglio di me il tema del servizio pubblico né mettermi sul piano degli illustri nominativi da lei citati a cominciare dal presidente Enzo Ghelli che è stato il nostro primo presidente dell'autorità però ecco dal mio punto di vista vorrei dire che nel servizio pubblico c'è uno spazio enorme che dovrebbe servire per educare la cittadinanza e i cittadini all'innovazione tecnologica c'è uno spazio enorme il tema dell'innovazione tecnologica che ha dichiarato nei contratti di servizio pubblico e la mia sensazione è che chi diciamo è stato concessionario di servizio pubblico fino adesso cioè la RAI abbia un po' diciamo perso questo questo filo che lo porti sul fronte dell'innovazione tecnologica e quindi ci vorrebbe essere uno spazio enorme per il servizio pubblico per educare i cittadini e per abituarli a questa innovazione tecnologica con cui dovremmo fare a meno per fare in modo che non ci sia uno di meno il momento in cui ad esempio la televisione dovrà chi spegne del digitale del resto e passare su internet per cui bisognerà sapere usare internet ma già adesso bisogna sapere usare internet perché hai bisogno di un'identificazione online e quindi parliamo di speed e degli altri strumenti hai bisogno del banking online hai bisogno di tutti i servizi quindi il servizio pubblico ricordando anche l'era eroica del maestro Manzi da voi citati potrebbe svolgere un ruolo enorme nell'educazione dei cittadini all'innovazione tecnologica in particolare per alcune categorie di persone che sono casualmente anche le maggiori fruitrici della televisione lineare del servizio pubblico cioè le categorie di persone over sopra una certa età che hanno limitate conoscenze del digitale che hanno limitate che hanno diciamo una difficoltà ad apprendere ad entrare in questo in questi ragionamenti allo stesso tempo io penso che la RAI la RAI scusate un fatto la RAI come concessionare il servizio pubblico debba diciamo farsi promotrice di innovazioni tecnologiche in maniera tale che poi queste innovazioni tecnologiche possano ricadere su tutta a beneficio degli italiani in particolare ad esempio ne dico una cosa che è poi una proposta che noi facciamo nel nostro libro bisogna fare in modo che non dipende solo dalla RAI ma bisogna fare in modo che si introduca il prima possibile il nuovo sistema televisivo che si chiama DVB-T2 cioè la nuova tecnologia di trasmissione che si sostituisca all'attuale DVD e in questo modo la televisione di girare terrestre che abbiamo detto ha un orizzonte di vita di almeno 8 anni come minimo e viene vista per la maggior parte da diciamo determinate categorie di persone anche in un certo senso quelle che economicamente sono più disagiate perché la televisione di girare è gratuita come sappiamo è facile da utilizzare e possa godere della qualità che è propria adesso dei servizi di streaming quindi parliamo del 4K di una qualità di visione molto buona è il DVBTA e tu hai permesso finito lo piango grazie quando dico tre minuti sono tre minuti ha detto l'essenziale strutturiamo l'essenziale senza scendere nei dettagli grazie devo anche dare grazie a lei e poi Augusto Preta l'economista considerazioni su quanto si ecco la mia considerazione avendo come dire come tutti quelli che hanno pochi capelli quantomeno avendo una certa età partecipato tutti a vari progetti di riforma del servizio pubblico della RAI e via dicendo quello che volevo sottolineare e che diciamo mi appassiona sempre meno rispetto a questo dibattito e che si parte come dire con l'idea che comunque il servizio pubblico ci debba essere a priori ora io credo proprio per avere un vero servizio pubblico invece bisognerebbe capire se c'è una necessità di avere un servizio pubblico e da questo punto di vista come dire la valutazione che faccio è collegata al fatto che tutto questo secondo me non deve essere legato a dei concetti statici e non dinamici facciamo un esempio noi vogliamo come dire garantire l'alfabetizzazione vogliamo garantire diciamo l'identità culturale e via dicendo ma ad esempio che livello di identità culturale noi dobbiamo garantire cioè quella che favorisce lo status quo o è un'identità che tiene conto delle minoranze degli altri di quelli che sono le grandi trasformazioni sociali che ci sono avute la libertà di religione e via dicendo ecco diciamo io partirei da questi aspetti e rispetto a questi cercherei di capire qual è il ruolo piuttosto che garantire un ruolo e poi cercare di provare quello che il servizio pubblico deve fare chiudo dicendo che se seguiamo questo processo a mio avviso anche il discorso come dire di identificazione che spesso si fa digitale terrestre anziani Rai servizio pubblico è totalmente fuori luogo cioè nel senso che noi dobbiamo trovare un servizio pubblico che vada come dire a coinvolgere tutti i soggetti a tenere non è un servizio pubblico per cui deve coinvolgere gli anziani deve coinvolgere i meno anziani deve coinvolgere i più giovani e deve andare dove diciamo le piattaforme le tecnologie li porta cioè nel senso che da questo punto di vista se noi abbiamo che i giovani non guardano più la televisione sul digitale terrestre un servizio pubblico deve andare dove non viene vista diciamo sul digitale terrestre e non ancorarsi diciamo sulla conservazione dell'esistente e guardare unicamente diciamo al passato e non guardare in avanti grazie accetto la sua sollecitazione preta al punto da tale da fermarmi e poi provocare su questo Bruno su due punti faccio una domanda quando un medico lavora in un ospedale privato è un medico diverso da un medico che lavora in un ospedale pubblico non credo perché la deontologia è quella ipocrate l'idea che si possa fare giornalista e giornalismo in maniera distinta diversa a volte antitecnica un servizio pubblico rispetto a tv commerciali è secondo me un'idea sballata quando tu fai informazione sia se la fai su Mediaset sia se la fai sulla RAI sia se la fai sulla Sette devi rispondere a un criterio di completezza imparzialità valido per tutti e a proposito dell'imparzialità qui arriva il secondo punto il problema oggi non è soltanto di adeguamento tecnologico se vogliamo il grande problema secondo me i grandi problemi che attraversano la società occidentale a tutti i punti di vista sono contenuti sempre più spesso condizionati dal cancro della cancer culture da questo punto di vista la libertà di religione per esempio a cui lei faceva riferimento preta sì d'accordo ma tenendo presente che questo non significa essere neutrali non si può accettare non si possono accettare religioni che vietino le grandi conquiste della società occidentale a cominciare dall'emancipazione della donna il nome di un pluralismo che sarebbe cialtronesco e pseudo pluralista fernando bruno tre minuti so che ne vorrebbe 33 per sintetizzare quanto ho sentito a chiudere questo nostro per ora il bello di un lavoro collegiale è che non sempre siamo d'accordo su tutti e questo ha fatto bene al libro io faccio soltanto una battuta rispetto alla provocazione intellettuale intelligente del mio amico Augusto e cioè che la caccia all'audience ai profitti anche nel sistema televisivo produce un fenomeno che sotto gli occhi di tutti di cui Augusto è uno dei maestri a come dire a dipingerlo e cioè segmentazione dei pubblici crescente profilazione dei gusti targettizzazione esasperata delle persone questo scrivo nel libro ecco il servizio pubblico deve fare l'esercizio esattamente opposto e questo esercizio lo può fare soltanto una televisione che abbia in qualche modo una policy pubblica e una anche una governance pubblica tutto questo naturalmente non mi esime da dire lo ripeto l'ho scritto lo scrivo da una vita che se il servizio pubblico deve essere fatto come lo fa la RAI e come lo fa l'ultima RAI di questa nostra esperienza è chiaro che c'è molto da dire e probabilmente poi ha ragione questo per rispondere a questo primo tema il secondo tema mi piace direttore che lei tra l'altro mi sento il più esposto nella sua esplicitata delusione provo a risponderle così noi non abbiamo voluto scrivere un libro sulla RAI ma dovevamo parlare del futuro della TV nell'ambito dei processi di innovazione digitale a un certo punto tutti noi e io in particolare che avevo quel compito specifico mi sono accorto che era impossibile evitare il tema del servizio pubblico ho cercato di farlo sulla come dire nel solco di quella risposta che davo prima qual è la differenza tra le due offerte di rischi sapendo naturalmente che il problema che lei pone e cioè la risposta al grande tema del deficit di partecipazione democratica di questo paese la gente che legge sempre meno i processi di marginalizzazione la crisi della democrazia è chiaro che non è non è compito del servizio pubblico il servizio pubblico svolge un ruolo importante ma ancillare rispetto alle cose che pure scrivo nel libro e cioè questo per fare questo bisogna restituire la parola politica ma a una politica che sappia fare davvero il suo mestiere una politica che sappia fare policy e cioè lavoro scuola formazione politiche sociali questo dico nel libro la informazione il servizio pubblico vengono solo dopo con un ruolo che può essere complementare importante nell'orientamento delle opinioni pubbliche secondo politiche pubbliche e direttrici di interesse pubblico ma sempre dopo non credo che il deficit di democrazia e di partecipazione democratica che lei correttamente indica come uno dei grandi problemi uno dei grandi mali che affliggono la nostra democrazia potrà essere un servizio pubblico anche il migliore del mondo possibile risolverlo spero di aver risposto a entrambe le certe però il servizio pubblico può essere in grado e deve avere il dovere di non assecondare certi processi di deriva culturale politica e anche tutura antropologica e per fare questo ci vuole insomma diciamoci la verità una volta una volta anche coloro che facevano il varietà sapevano divertire senza essere volgari una volta anche coloro i quali parlavano di sport sapevano appassionare le varie discipline sportive analizzandole in maniera non polemica certi talk show condotti per esempio Maurizio Costanzo avevano un garbo a prescindere se si condividessero o meno i contenuti che oggi i talk show non hanno allora non può sostituirsi un servizio pubblico radio televisivo e ripeto vale tanto non solo per la RAI ma certo può non assecondarli può criticarli e può proporre una narrazione diversa ma per fare questo ci vogliono giornalisti presentatori showmen commentatori sportivi persino le signorine buonasera che una volta annunciavano i programmi lo facevano con un'addizione che l'Accademia della Crusca ammirava e tutto questo occorre dire e veniamo da anni e da decenni in cui il dogma e la televisione non solo privata ma anche pubblica non dovesse essere pedagogica e oggi i risultati sono quelli che sono però mi siete molto piaciuti perché mi avete dato l'occasione di leggere un libro lo dico agli ascoltatori di Radio Elegale che non si speranteranno certamente però sono più di 600 pagine e richiedono anche una formazione poliedrica però devo dire che gli autori riescono a sbriciolarne le asperità linguistiche lessicali e oggettivamente epistemologicamente difficili per ciascun settore per rendere questo libro la televisione del futuro le prospettive del mercato televisivo nella transizione digitale non solo digeribile ma godibile nella lettura libro pubblicato in collaborazione con Astri del Mulino ne abbiamo parlato con Fernando Bruno che ringrazio a presto Vincenzo Lobianco grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci Vincenzo Lobianco grazie anche a lei Antonio Perrucci ad Augusto Preta ci risentiamo presto un libro che si avvale dell'introduzione di Franco Bassanini e delle conclusioni del grande giurista maestro del diritto Enzo Chieri ringrazio per l'assistenza in regia Stefano Chiarelli di Gurudas e naturalmente un ringraziamento e un saluto finale da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale Grazie a tutti